E ancora a podio per Fred Ragno, il giovane portacolori della scuderia Power Car Competition che nella gara di slalom di Rocca d'Aspide ha conquistato il secondo posto nella classe N2000 ed il quarto nel gruppo N. Una sfida impegnativa quella del pilota erpino su un percorso molto tortuoso anche con asfalto sconnesso caratterizzato da otto tornanti che si snuotano per circa quattro chilometri lungo la strada statale 166 degli Alburni in provincia di Salerno da località Casalotti fino a Serra intervallata dalla linea di partenza all'arrivo da 14 barriere di rallentamento delle quali sei con ingresso a destra e le restanti a sinistra. Nonostante il percorso molto tortuoso e l'asfalto sconnesso sono riuscito a portare a casa un secondo posto nella mia classe N2000 e quarto del gruppo N. Il prossimo appuntamento è a novembre alla gara di Sorrento-Sant'Agata. Ricordo a tutti per chi volesse vedere le mie gare può andare su YouTube, scrivere Fred Ragno e trova il mio canale con tutte le gare a cui partecipo. Il prossimo Maxi Slam, città di locale d'aspite che ha fatto registrare 79 piloti a nassi di partenza valido per il campionato italiano AC Sport della specialità motoristica, si è rivelata ancora una volta un percorso particolarmente tecnico ed insidioso, andato esceando sulle strade che si affacciano sull'antica città di Pestum e sul Golfo di Salerno. Ma Fred Ragno, alla guida della no Clio Williams, allestita dalla laudata di corsa, ha confermato il suo temperamento e la sua abitaggio, assendo con grande sicurezza la competizione e portando a casa un altro prezioso risultato.